Signore e signori, buongiorno, eccomi qua, sono tornato, sono Gianni lo giudice, sono sempre con voi, forse noi siamo visti per un po' di tempo, ma io sono stato in giro sul territorio, ho venduto milioni di uova, perché sono il miglior rappresentante di uova a domicilio, e pertanto sì, sono sempre a vostra disposizione, non ci sono problemi, sono sempre presente con voi, e pertanto ci sono dei problemi, questo sicuramente, però tutto non mi permette, anzi, di continuare questo mio messaggio, perché le uova di Gianni lo giudice sono fantastiche, sono delle uova, qui ci sono anche per Halloween, ci sono per Halloween anche delle uova, le famose uova di Alloven, e sono veramente molto male, fra poco ho detto, bene, io sono una persona molto paziente, voi potete cercarmi per telefono quando volete, perché la situazione è tranquilla, non ci sono situazioni particolari, e io posso solamente dire che potete fare il mio messaggio alle mie uova, e che tutto è perfetto, va bene, adesso lascio, ecco, lasciamo le vostre telefonate, adesso rispondo, perché vedete che nonostante tutto, i miei messaggi hanno successo, pronto, no, qui non vendiamo assicurazioni, qui ci sono le uova di Gianni lo giudice, rappresentante di uova a domicilio, bene, sì, no, no, qui non c'è nessun pacologo, ma qua, chi è che risponde al telefono? qua, chi è che risponde al telefono? oh, stiamo pensando, ma Gianni lo giudice, quante uova? sì, no, pacologo, non esiste, metti un pacologo, basta, oh, qua, lei non è a casa sua, eh? carissime amiche, Gianni lo giudice, rappresentante di uova a domicilio, ma chiuda, vi saluta, fra poco, vi saluta, vi saluta, e fra poco, fra poco che mi rimazzate, chiudi qua, c'è niente da ridere? no, c'è niente, mi sto per alzare, romperò le uova nel penire io